Oggi vi voglio parlare di una cosa molto importante, un problema che affligge tanti uomini e tante donne, il problema della calvizie. Abbiamo in Salone un sistema rivoluzionario che cambierà proprio la vostra vita e la vostra immagine. Oggi vi faremo vedere di che si tratta. Si tratta di un prodotto altamente innovativo, si integra perfettamente con la nostra immagine, non si percepisce al tatto e sparisce alla vista. È molto confortevole, non dà né allergie né pruriti. Possiamo fare qualsiasi cosa vogliamo, sport, farsi una doccia, andare in piscina, andare al mare, non pone limiti alla nostra vita. Pensate che questo prodotto non va solo bene per l'uomo, ma anche per la donna. Nel mio percorso ho incontrato donne che avevano problemi di calvizie, provando questo prodotto lo viste rifiorire, lo viste ritornare alla vita, lo viste ritrovare la propria immagine e la propria bellezza. Non trascuratevi, non perdete la voglia di volervi bene e se siete indecisi non abbiate problemi. Siamo qui a vostra disposizione, in salette riservate, facciamo delle consulenze totalmente gratuite senza nessun impegno, dove spieghiamo le caratteristiche di questo prodotto. Oggi, grazie all'innovazione tecnologica in questo settore, siamo riusciti a offrirvi un prodotto ad altissimo livello. Riscopri la tua bellezza e torna a sorridere. Grazie a tutti, grazie a tutti.